Mi chiamo Silvia Arnone, sono una docente di scienze naturali dell'Istituto Ettore Majorana di San Lazzaro di Sabena di Bologna. L'anno scorso, come referente dell'alternanza scuola-lavoro, ho deciso di aderire al progetto proposto dall'ISPRA di Uzzano e attratta dall'idea di poter coniugare temi a me molto cari come la protezione ambientale e la genetica molecolare. La professionalità e la passione dei ricercatori dell'ISPRA e dei carabinieri Cufa di Forlie e Bologna hanno coinvolto sempre più i nostri alunni che hanno contribuito alla stesura del manuale operativo. A racconto dell'attività svolta abbiamo prodotto un video e con questo video stiamo concorrendo al premio della Camera di Commercio di Bologna dal titolo Storie d'Alternanza. A presentarvi il video potrà un piccolo contributo due alunni della classe coinvolta. Ci tenevo a ringraziare i ricercatori ISPRA, dottoressa ovviamente Greco, Mucci e Belli e i carabinieri ovviamente dei Cufa. Prego. Buongiorno a tutti, io sono Montagnini Simona e lui è il mio compagno di classe. Simona Canova, buongiorno. Noi siamo della classe Quintel, appunto, dell'Istituto Superiore Ettore Majorana di San Lattolo di Savena di Bologna e siamo stati coinvolti in questo progetto grazie appunto alla professoressa Arnone e anche al nostro preside che ci ha concesso questa fantastica opportunità e infatti abbiamo anche appunto prodotto questo manuale facendo appunto sia esperimenti sia sul campo diciamo nel laboratorio dell'ISPRA ma anche a scuola facendo più diciamo un lavoro teorico. Abbiamo partecipato anche a una giornata in cui ci siamo immedesimati nel lavoro dei carabinieri ci venivano proposti dei casi già svolti e già risolti dai ricercatori proprio per cercare di immedesimarci e creare un manuale che potesse essere utile anche potesse essere utile ai carabinieri e a tutto il corpo dell'Arnone. Volevamo ringraziare chiaramente come già detto la professoressa e il preside e soprattutto i ricercatori dell'ISPRA che ci hanno fornito questa opportunità comunque seguendoci nel percorso e aiutandoci senza troppi intoppi diciamo. Speriamo che il lavoro svolto possa aiutare comunque tutto il corpo dei carabinieri è un work in progress quindi sicuramente si evolverà e siamo curiosi di sapere anche noi come verrà il lavoro finito, come sarà. E speriamo che sia anche molto utile anche per preservare comunque le specie a rischio di estinzione che ci sono appunto in questo periodo. Grazie.